Ciao e benvenuti nel mondo delle Big Wipes 4x4. Sono in grado di rimuovere lo sporco da mani, attrezzi e superfici, come mai prima d'ora. Con quattro tipi di solventi, un design perfezionato e un lato esfoliante garantisce una migliore aderenza per rimuovere lo sporco in modo più veloce, efficiente, facile e sicuro. Il 25% in più di azioni pulente e allo stesso tempo il 100% in più di idratazione. Ora con quattro emollienti, non due, aloe vera, vitamina E, lanolina, glicerina, la vostra pelle avrà quattro volte di più la protezione che necessita per mantenersi sana. Le proprietà antibatteriche delle Big Wipes proteggono la pelle da possibili infezioni batteriche. Ora vi mostro le loro azioni pulente. Ecco perché Big Wipes, signore e signori, è la risposta. Guardate, pittura a olio. Questa è vernice. Perché non del silicone? Sì, mettiamocelo. E del grasso? Ecco qua, lubrificante. E dell'olio? Ora sfrego le mani. Qualcuno dirà, puoi metterci alta pittura? Ma certo, ecco fatto. Ora guardate. Quanto sono sporche? Prendo una salvietta. Questa è la Big Wipes Heavy Duty. La prendo e pulisco le mani senza difficoltà. Rimuovo lo sporco e rilascio sulla pelle delle piacevoli sostanze idratanti. È a base di acqua per il 90%. Guardate, non sono pulite? Sì. Questo sì che è pulire. Ecco perché Big Wipes non ha prezzo. Le vostre salviette di fiducia. Le vostre mani saranno pulite e protette.